dopo te lo faccio vedere che ti devo dire eh niente o in pieno eh eh si qual è il grappato via eh ti ha fatto il prelievo è come quando vado io all'avis basta grattarlo più lo gratti via più continui a uscire devi tamponarlo perché se lo gratti tiri via il coagulo esci ancora di bestia lascia il kinshi guarda sennò ti cola giù così devi lasciarlo lì scotta io non c'ho migliorato il cambio qui eh 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 questi poi non li riesci neanche a tagliare come si deve perché sono tutti agganciati uno con quell'altro guarda che roba figaro giusto guarda che che ramazzo che c'è qua credo che ti sei agganciato ti dico che ho preso dentro il caso a te indietro eh ma nonno non l'ho preso eh probabilmente è tutto ci sono dico perché non estivo passerco sul mio periodo perché adesso 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 che ci passare a calza adesso 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 è di passare al